Claudio Bisio ha fatto sapere ai suoi fan tramite un video messaggio da Instagram Stories di aver contratto il Covid-19. L'attore conduttore ha la voce provata una brutta tosse ma sostanzialmente in buone condizioni di salute. Il suo nome si aggiunge alla lunga lista di stare celebrità che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con il coronavirus, da Carlo Conti a Gerry Scotti. Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata, però questa cosa ve la volevo dire. Da qualche giorno sono positiva al Covid, niente di grave, penso e spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto, un po' di voce abbassata, come sentite, ma sto bene, sto lottando. A causa del virus Bisio ha dovuto annullare un importante impegno che avrebbe dovuto vederlo presente a Roma. Grazie a tutti.